Ehm... ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft E quest'oggi come vedete ci sono stati rubati i cuori Ne ho letteralmente soltanto uno Perché quest'oggi dovremo andare a recuperare tutti i cuori Come ci spiega questo bellissimo grafico Dei mob di Minecraft Se uccidiamo i mob ci daranno un pezzettino di cuore E con questi pezzettini potremo fare i cuori Che hanno ognuno caratteristiche e poteri personalizzati E possiamo anche farli dei mob Tipo se gli diamo un cuore al villager diventa un cuore di villager Un cuore... e così via Ma io direi di iniziare subito e non perdere tempo Perché poi vedrete che si capirà tutto molto meglio E per iniziare sinceramente avrei bisogno di delle armi o qualcosa del genere Perché cioè già che ho un cuore e la mia vita è a rischio a prescindere Però... capito? Vorrei quantomeno avere qualcosa per difendermi Se non ho capito male Dobbiamo andare qui in giro a pieno di sti equipaggiamenti Ne ho davvero un sacco Ma io così... io non mi lamento Proviamo per esempio con dei polli Non so se i polli... ok Anche con i polli funziona Come vedete ci danno questo pezzettino di cuore Che da quello che ci ha spiegato il grafico E anche questo caro amico Che molti di voi conosceranno magari come crafty Ci ha spiegato che mettendone 9 qui dentro Terremo un cuore di nulla in realtà Per il primo cuore ci è stato consigliato di darlo o a un villager o a una capra E io siccome non voglio diventare subito un loco lochis Penso che lo andrò a dare a un villager sempre se lo troverò Anche se qua c'è un sentiero che penso mi porti proprio lì Questa è una custom map presente su Minecraft Windows 10 Quindi dovrebbe essere praticamente tutto studiato per essere abbastanza facile E infatti qua c'è un bro che ora diventerà il mio cuoricino Il mio cuoricino Devo cliccarti Dovevo cliccarlo e ho un cuore di villager E mi è stato detto di mangiare questo cuore L'ho effettivamente mangiato Ora che abbiamo questo cuore Teoricamente i villager mi difenderanno quando qualcosa mi attaccherà E abbiamo anche un dettaglio da villager Quindi allora ci servono un sacco di questi cuoricini Perché mi sa che i mob da craftare so davvero denti So davvero denti denti Intanto la capra non so dove potremmo trovarla Però qui dovremmo essere in grado di poter craftare già un altro cuore Perché qua è stato abbastanza semplice Ottenerli Facciamoci anche già che ci siamo La crafting E con la crafting facciamoci un altro container Voilà Ora dobbiamo cercare Una capra Ok forse la bella è in quella montagna lì ora che ci penso Ma meglio così almeno ci ritorniamo verso il villaggio Che se no questi ci attaccano E per noi potrebbe arrivare la fine Signor scheletro non è che mi può lanciare una freccia Perché voglio vedere che cosa farebbero i nostri bro Mi puoi colpire Non mi colpisce Vabbè uno zombie Dai zombie Mi ha colpito uno zombie Aiuto Sono morto Riprendiamoci il loot E effettivamente non avevo capito che cosa facesse Ma non sono i villager a difendermi Ma ogni volta che vengo ittato Dei villager spawnano e uccidono la persona che mi ha ittato Cioè ancora meglio Comunque io nel dubbio andrei a dormire Perché forse è meglio così Sì sì mi serve un letto in prestito I miei cari amici villager In fondo siamo bro no Ecco qua Buonanotte E dopo una lunga giornata ci si sveglia In una redura Non innevata però c'è da quella parte innevata Perché mi servono le capre Ok effettivamente potevo arrivarci Al fatto che quella lì sopra era una capra E che quindi le capre Le avrei potute trovare sopra questa montagna Però non ci sono arrivato Semplicemente perché Non ci ho pensato Non per altri motivi in particolare E non guardatemi con questo naso È in fondo un naso carino Sono un villager Una scalatina sul nostro bellissimo monte Everest Per giungere dalle nostre caprette Locolokis Lì c'è un locolokis gigante eh Ma buongiorno signore caprette Spero che per voi non sia un problema Diventare un cuore di capra E se non ho capito male Questo cuore di capra va mangiato No raga A parte che mi ha dato delle corne Delle cose strane da capra Abbiamo il potere delle capre Ovvero di caricare un salto E fare una cosa di questo tipo Cioè tipo incornare il pavimento È bellissimo È una cosa davvero bellissima Non so se faccio danno anche ai mob Magari ci proviamo Tipo quel coniglietto lì Non so Mi sa che non gli faccio danno Però posso scavare dei blocchi È bellissimo È effettivamente bellissimo Torniamo un attimino verso la zona base Perché almeno così mi farmo Un pochettino di Celle di cuori Che posso usare per gli altri cuoricini Perché ancora ne abbiamo soltanto tre Il nostro carissimo amico Ci ha regalato questo Ship Catalyst Che è un cuore particolare Che funziona solo sulle capre Che dovrebbe teoricamente Farmi vedere Tutti gli scagnozzi Di quella Strega che mi ha rubato i cuori È strana come cosa Ma lo proveremo subito Facendo Ma tu sei un boss Oh porca miseria Pei piccoli Villager Vi dispiace Ma cosa sto vedendo Questo di preciso Che cos'è Porca miseria Ma guarda che mi ammazza anche tutti i villager Oh schifosa Di una pecora Con una spada E un mantello Che vorrei tanto sapere Che cosa ci fai tu In questo mondo Così strana Oh porca miseria Oh porca miseria Mezzo cuore Oh porca miseria Mezzo cuore Mezzo cuoricino Mezzo cuoricino E invece tu ne hai ben Z Zero E sbaglio queste sono le cose necessarie Per craftare un portale Mi sono spaventato Mi ha appena detto che i mob adesso saranno radioattivi E non so cosa voglia dire Ma ok Sostanzialmente la strega Ha fatto arrivare nel mondo dei mob verdi radioattivi Come quelli che vedete lì Che dovrebbero darmi dei pezzettini di cuore radioattivi Che mi permettono di poter craftare dei cuori ancora più potenti Se non ho capito male Comunque qua intanto mi faccio un portale E voglio vedere se quello lì A parte se è cattivo Perché se mi odia è un casino Però se mi droppa anche ciò che mi serve Perché teoricamente lui dovrebbe dropparmi il cuoricino avvelenato Non è vero? Grazie per il cuoricino radioattivo Me ne servono sempre nove di questi E effettivamente anche dei maghiari sono diventati radioattivi Ma che diamine Eh lo sapevo che facendo notte qui Si sarebbero mostrati tutti questi bro Che tra l'altro questi esploderanno Sarà anche tipo impossibile Cavolo è vero che io ho pochissimi cuori Non me lo ricordavo questa cosa Micro villager Micro villager Non è che mi aiutate a tipo fare un pochetto di kills Anche se potrei usare l'arco Ora che ci penso Perché almeno Ok un pezzettino ce l'abbiamo Un pezzettino ce l'abbiamo Due pezzettini Quindi siamo a cinque E questi due ragni Teoricamente ci permettono di craftare L'ultimo che ci serve Perché tu dove stai andando Che sei di vitale importanza Eccoti qua Mi sono nascosto un attimo in casa Per avere un pochettino di pace E in teoria facendo così Dovremmo craftare Il radioactive Heart container E c'è scritto che funziona Su blades Wither skeleton E magma cube Ok Però Io prima di andare nel nether Sinceramente Me ne crafterei degli altri Perché nel nether I mostri da uccidere Sono più cattivi Quindi magari Se troviamo tipo Non lo so Altri maialini Velenosi Oppure un cavallo Anche se il cavallo Ha un sacco di cuori Magari è tutto più facile Non lo so Io non dobbiamo ne farmo Un pochettino A parte che anche il golem È diventato radioattivo E quello non lo picchio Perché mi fa un sacco di male Però teoricamente Dovremmo avere Quelli che ci servono Per craftare tutti E tre i cuori Che ci servono Ok Quindi magma cube Blades E withers Caledon Non so Ok Dobbiamo andare a cercarlo Dobbiamo andare nel nether A cercare questi bellissimi Signori Et voilà E si va Si entra Con questo aspetto Molto villager capresco E una volta giunti Credo che bisogna Seguire queste cose Perché da una parte Andremo verso la fortezza D'altra verso il bastione Credo Qualcosa del genere Non sapevo io Che seguire i cosi Avrebbe portato verso La parte giusta Allora qui Io so che facendo No 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 Non questo Però tipo Com'è che si piazzavano i blocchi Mi l'aveva insegnato loco Tipo Vabbè sentite Il vecchio metodo È sempre quello migliore Allora i blades Dovrebbe essere molto semplici Trovarli Perché abbiamo qua Lo spawner Quindi Grandissimo blades E diventa un cuoricino Grazie mille Poi oltre al blades Ci serve anche Il wither skeleton Che ne ho visti un sacco qua Quindi Se non ti dispiace Anche tu Diventa un cuoricino Ok Voi distruggete quello skeleton Di modo che non mi uccida me Aiuto E come magma cube Direi che lui va benissimo Grazie mille Allora Se il magma cube Oltre ad essere mi cambiata una gamba Teoricamente ho jump boost E se quando sono in aria Faccio shift Dovrei fare tipo un Rimbalzo Che Che fa questa cosa Ok È effettivamente molto bello Però Oltre a questo cuore Potrei mangiarmi anche Quello del blaze Che mi dà questi cosi Che girano attorno Abbiamo anche Creed of feather falling Slow falling E se abbiamo una blaze Possiamo letteralmente Lanciare fireball Quindi mi serve una blaze Perché prima Non le ho prese Ti prego tu Blazerod dammi Dammi la tua blazerod Ti prego Non me l'ha droppata Non me l'ha droppata Non me l'ha droppata Qualcuno mi chiede una blazerod Ti prego Dammi una blazerod Per favore Ve lo chiedo per favore Ve lo chiedo per favore Dai Dai Sono sicuro che me l'hanno droppata Oh ce l'ho davvero Ok Non lo sapevo Però va bene lo stesso Quindi se ho una blazerod in mano E faccio così Oh Ehi Ehi Diamo fuoco alla palestra E in realtà avremmo anche questo da provare Quello del Wither Skeleton E oltre ad avere un braccio scheletrico Teoricamente dovremmo poter Colpire i mob E lanciargli tipo una testa Come faccio a lanciargli la testa Scusa non ho capito Ah quando mi colpiscono i mob Forse C'è un mob cattivo Che mi vuole colpire Cioè tipo lei No signora Argolem Mi dà un colpo Un colpetto Urca loca Ho lanciato tipo dei teschi addosso Non so se l'avete visto Cioè sono fortissimo Posso dargli fuoco E poi se mi ricolpi Vabbè non doveva succedere questo Comunque Se torniamo dal nostro bro Teoricamente ci dovrebbe dare anche altri consigli Come fare gli ultimi cuori Perché ne abbiamo sei Ce ne mancano ancora quattro Mi ha dato questo cuore Da usare su uno strider Quindi di nuovo nel nether E teoricamente dovremmo avere Un altro scagnozzo Della strega che ci ha rubato i cuori Dove lo trovo Uno strider Vicino alla lava E dove trovo Della lava Vicino al nether Striders No striders Anche se questo va sotto Ok Forse questo è il posto giusto Cioè per caso Uno strider Ehi Teoricamente fa il resistance Perché ho il potere del blades Quindi io Potrei fare anche una cosa Di questo Tipo qui Ehm Dove è finito Ci sei arrabbiato Si sono arrabbiati I mob I mob decayed Quindi un'altra corruzione I mob mi hai lanciato Si effettivamente Alcuni mob sono diventati Stranamente viola E mi danno anche Questi pezzi viola E quindi Mo devo uccidere questi viola Per avere i cuori Ehm Decayed Quindi avvizziti Tipo E fare degli altri contenitori Vieni qui Ascolta Vabbè Forse mi torna nel Overworld Teoricamente Questi che ho preso Dovrebbero bastarmi Qua ho fatto anche Una spada in pietro E questi Ne avevo neanche visti Che in realtà Potevo utilizzarli Ma poco importa Rifugiamoci un attimo Qua dentro E facciamoci Un'altra Grafting table E con questa Ci facciamo Altri tre Di sti cuoricini Ok E in realtà Me ne servirebbe un altro Perché abbiamo un altro Mob su cui usarlo Il creeper Iron golem Rabbit E Revenger Quindi allora Andando in ordine Un coniglio Se non sbaglio Ce l'ha da questa zona qua Ehi Dai Ma porca miseria Ok l'ho preso Abbiamo un cuore di coniglio Che Mangiandolo Oltre ad avere delle orecchie Da coniglio Ora abbiamo anche un Coniglio Che ci protegge Letteralmente Grazie Però prima che faccia giorno Mi servirebbe un creeper Un creeperito Un creeperigno Chi è che prende danno Coniglietto Seguimi Creeperigno Il mio qua Oh mio dio Stava per esplodere Oh mio dio Se mangiassi anche Un cuore di un coniglietto No scusa Di un creeperignolo Cosa diventerei Vediamolo un pochettino Abbiamo una gamba Da creeper Che farà sì Che ogni volta Che verremo attaccati Lanceremo dei proiettili Da creeper Esplosivi Tipo E wow Però per gli ultimi Mi serve un revanger Quindi l'incursione Mi serve E un iron golem Che abbiamo invece Qua davanti E scusami bro So che tu sei proprio Ci proteggi Ma mi serve Il tuo cuoricino Grazie mille Perché almeno divento Forte e figo Come un iron golem Guardate che bei pettorali E ho un sacco Di knockback Resistance E dovrei avere Anche un pochettino Più di strength Ma vedi questo Fermi Non combattere Fermati Coniglio Senti Allora io apprezzo Che tu mi stia aiutando Però sto bro A me serve E come diventerei Se assumissi anche Un cuore da rinoceronte Oh beh Ho un braccio Bellissimo pionico Che teoricamente Dovrebbe farmi Dare un knockback Incredibile Per far venire la strega Però dovremmo parlare Col signore qua dentro Salve Come va Con questo oggetto Teoricamente dovremmo Farla arrivare Qua da noi Perché questa strega Sta magari in un'altra dimensione Ma facendo così Oh porca miseria Salve signora Posso usare il mio braccio Bionico contro di lei Perché mi sembra davvero Molto forte questo braccio Bionico Mi può anche colpire Così gli arrivano Addosso dei proiettili E anche il mio coniglio Vuole ucciderla Oh colpissimi Sì Così spawnano anche i creeper Vai vai Tutti i miei poteri Posso usarli contro di te Impari Ah scusami signor coniglio Non volevo Impari a rubarmi i poteri Dai miei cuori Se uccidessi il totem No non fa niente il totem Sium L'ho morto E' uccisa? E' morta Ah ma è questo Ciò che regala Allora Ehi Aspetta un attimo Come funziona sta scoppa Guardo in alto Vado in alto E se guardo in basso Vado in basso Giustamente Che figo Ok Direi che abbiamo Recuperato tutti i cuori Della strega Arruvati E siamo diventati Un essere davvero strano Ma devo dire la verità Sono molto carino E nulla Per oggi è tutto Fatemi sapere se questo video Vi è piaciuto Qual è il vostro cuore preferito Secondo me il coniglio Che ci aiuta È stato bellissimo Ma anche Sono tutti belli Effettivamente erano tutti belli E nulla Noi ci vediamo domai Con un nuovissimo video Io continuerò a volare Solo il mio scopo volante Per i prossimi 5 minuti E niente Buon Natale a tutti E felice anno nuovo Queste parti del corpo Mi donano alcune Non tutte Cioè tipo la capra No dai